Ciao ragazzi, Riko ci guarda di nuovo su The Cave. Allora, l'ultima volta ci siamo lasciati che abbiamo finito anche l'esplorare la visualizzatrice nel tempo. Adesso siamo qua su, abbiamo aperto la porta e bisogna andare giù. Vieni a vedere che cavolo. Allora, apriamo i gemellini e li portiamo la vicino alla... andiamo con il gemellino. Ah, il zoo. Osserva la natura's meravigliosa e terribile belle, sicuramente imprisone behind unbreakable steel bars. Ok, il zoo. Stupendamente. Che cazzo! Che cazzo! Che cazzo! Questo è un sogno. Mi amico zoo. No, mai mi piace zoo. Mai. E quindi? Non possiamo più usare i gemellini, ma porca vacca. Andiamo a vedere qua cos'è. Ah, 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 ah. Anguille elettriche. Ok. Portate che non mi fanno male. Andiamo a vedere qua, i gemellini. Così dovrebbe funzionare. Ve ho ancora due. Ve ho tutti i gemellini pestifori. Che prende il veleno dei peitopi. Bellissimo. Ah, 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 ah. Che cazzo. Ok. Adesso, veniamo a vedere qua. Sto punto. Che cosa? Beast Hunter Podcast, giorno 541. Il monstre di Crystal Cave ha escapato ancora. È ancora fredda, quindi sono campata con la sua fredda favorita. Quando sento il suo ruolo e ruolo, la cazzo è andata. Oh, blasto! Questo gizmo semplice è fuori batterie. Hey, chi sei tu? Non toccare questi hotdog. Ti piace hotdog? Sì, tranquilla. Non venga a rompere le baglie. Vado giù. Ciao. Sì, sì. A meno c'è sta una col fucile. Andiamo a andare giù allora. Che ci abbiamo da fare giù? Qua non c'è niente. Andiamo giù. Secondo il penultimo gemellini. Potrebbe essere. Sì. Molto presto 100% senza genitori. E ci manca solo uno. Ok, dei gemellini. Stupendamente. Non possiamo scendere qua. Ok. Allora. Più avanti qua c'è... Che c'è il mostro? Ahia. Uhlala. Eccoli qua. Ok. Menomale. Ora possiamo di nuovo controllare i gemellini. Allora, vediamo un po' di esploratrici. Andiamo su. A vedere che cavolo abbiamo. Su. Ho una cassa. Bene. La portiamo giù la cassa. Oddio. Prima. Funziona. No. Tu. Ok. Qualc'è ci abbiamo? No. Tu. Ok. Qualc'è ci abbiamo? In questa situazione. Oh. La batteria. Pro tip. Questa batteria. Probabilmente necessita una cassa. Il suo proprietario non ha avuto la possibilità di mantenere la cassa. Il suo proprietario non ha avuto la possibilità di mantenere la recentemente. Ok. 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 Grazie. Adesso abbiamo. Un registratore. Quella batteria. Scaricolo. Allora. Andiamo a vedere. Qua su. Cosa ci ti balla. Oh. Lecchio questo? Oh. L'esploratrice. Spuntoni. E scerpi. E spuntoni. Bene. Stava. Pienificando la trappola. Allora. Poi ci abbiamo un affare. Che ci fa salire quello. Ok. Allora. Adesso abbiamo dei gemellini qua. Secondo me ci servirà. ci servirà questo. Che ci prenderemo i nostri gemellini. Che immagino bisognerà. Forse. Ho. Ho un'idea. Allora. Andiamo su. Qua. Ma. Ah no. Non mi fanno passare. Non lo so. Adesso butto come ho fatto con. Con il dinosauro. La cassa. Mi ammazza. Mi ammazzo direttamente. Adesso. Si è leggermente incazzato. Ok. Adesso. Adesso. Questo qua serve qualcosa sicuro. Oh. Si è aperto qua. Wow. Ah. Qua c'è la viaggia. Qui c'è il tempo. Un complotto. Bene. Benissimo. Adesso. Qua facciamo. Facciamo così. Dove siamo qua adesso? Ragazzi. Siamo di qua. Ok. Ficca siamo a posto. Adesso. Dove? Non è qua. Il murene. No. E' neanche qua. Dove cacchiare il murene. Porca vacca. Qua no. Qua neanche. Di qua? Ah qua sopra si. Ah. Spero che abbia funzionato. Ah. È normale. E' carica. Spero che abbia funzionato. Ah. È normale. E' carica. Vediamo se possiamo tagliare adesso. Vediamo se possiamo tagliare adesso. Hey. Chi sei tu? Non toccare questi cattoli. Niente. Perchè ne recco? No. Ah. Forse dovevamo registrare la voce del dinosauro. Viene del... Del mostro nel dinosauro. Allora. Perciò ho bisogno andare giù. No qua. Ho bisogno andare su. no bisogna come un po' c'amore di fargistare l'estaserobe va da s'a funzionato Ora andiamo a dargli così, quella di sanzione del mostro che forse, dopo prenderà l'acqua Ho visto che l'ultima volta gli ha ghiotto questo mostro degli hot dog Ok, prendiamoci un hot dog All of that for a frankfurter, at least it's kosher Oh wow 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 Ha funzionato This has gone on long enough I suppose it's true what they say If you want to make an omelette, you have to consign the last member of an ancient species to oblivion while destroying someone else's lifelong dreams and desires Oh Porta del monastero Oh, here we have Un'altra da Lume di Candelotti Sta facendo il suo piano diabolico Di qua cosa c'è di bello? Vecchio cartello Che c'è qua di bello? Che c'è qua di bello? Sta parte Vabbè ragazzi, noi però ci sentiamo a un prossimo gameplay Sempre corso a Volpe Ciao a tutti Ciao a tutti